Due comuni della provincia di Pesaro Urbino da mercoledì finiranno in zona rossa l'ordinanza firmata poco fa dal presidente Acquaroli per contenere l'aumento dei contagi nel nord della regione. A Fanotv parla il giovane studente ricoverato con un TSO in psichiatria dopo aver protestato in classe contro l'uso obbligatorio delle mascherine. Non sono pazzo, ha detto ai nostri microfoni, mi hanno isolato socialmente e abusato del mio corpo. È diventato un caso nazionale l'infermiere che rifiuta di farsi vaccinare. Non sono un novax, ma non voglio che il mio corpo diventi oggetto di sperimentazione. Un'auto cappotta in autostrada tra Fano e Pesaro dopo aver urtato un furgoncino. Paura per l'autista, traffico rallentato in direzione nord. Sarà il sitaco di Fossombrone, Gabriele Bonci, l'ospite in diretta di Primo Cittadino in onda subito dopo questo telegiornale. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri Un cordiale saluto, benvenuti in questa nuova edizione del telegiornale. Dunque, come avete sentito, Acqualagna e Petriano, due comuni in provincia di Pesaro e Rubino, finiranno da mercoledì prossimo in zona arancione rafforzato. Una decisione presa oggi dalla giunta regionale marchigiana per contrastare l'aumento del numero di contagi registrato negli ultimi giorni. Il presidente della regione, Francesco Acquaroli, ha firmato oggi la nuova ordinanza. Da mercoledì 12 maggio all'interno dei comuni di Acqualagna e Petriano saranno limitati gli spostamenti ai soli casi di salute, studio, lavoro e comprovata necessità. I due territori, infatti, entreranno nella zona dell'arancione rafforzato. Dall'analisi epidemiologica effettuata sul territorio regionale e a seguito delle conferenze dei sindaci delle aree vaste, è emerso che mentre il tasso regionale dei positivi su 100.000 abitanti non preoccupa, in quanto inferiore al limite previsto di 250, nei comuni di Acqualagna e Petriano il tasso dei positivi era tale da richiedere un'azione di intervento per tenere sotto controllo la situazione pandemica. Allo scopo quindi di contrastare il diffondersi del virus, dalla mezzanotte di mercoledì 12 maggio e fino alla mezzanotte del 18 maggio, nei due comuni valgono tutte le regole della zona arancione. Dunque sarà vietato ogni spostamento all'interno degli stessi comuni, ma rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. Occorrerà sempre far uso dell'autocertificazione riguardo alle cause significative dello spostamento da questi territori. Tre persone positive al Covid sono morte nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese. 57 invece i positivi su oltre 500 nuovi tamponi. La provincia più colpita è quella di Ancona, con 34 casi, seguita da quella di Macerata e di Pesaro e Urbino. Diminuisce la pressione nelle terapie intensive degli ospedali marchigiani. Nel momento sono 58 i pazienti ricoverati, uno in meno rispetto a ieri, mentre i degenti in semi-intensiva scendono a 104 rispetto ai 106 di domenica. E adesso parliamo invece di quella vicenda che ha per protagonista un giovane studente di 18 anni che una settimana fa è stato ricoverato in un reparto di psichiatria a Muraglia di Pesaro dopo aver inscenato in classe l'ennesima protesta contro l'uso della mascherina obbligatoria. Questa mattina lo abbiamo intervistato di fronte alla scuola in occasione di un sit-in di protesta a cui anche lui ha preso parte e ci ha raccontato la sua versione dei fatti. Sentite. Una restrizione della mia libertà personale. Non potevo comunque navigare in rete per quel periodo. Sono stato anche isolato socialmente e hanno anche abusato sul mio corpo. Quella che è stata fatta all'ospedale di Fano è una tortura. Sono parole forti, quelle rilasciate dal giovane rebelle ricoverato da mercoledì scorso fino alle 12 di ieri nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Muraglia a Pesaro. Un provvedimento al quale è stato sottoposto perché lo studente del Battisti si era incatenato in un banco con un lucchetto della bici opponendosi all'utilizzo della mascherina in classe. La vicenda, accaduta all'istituto Livetti di Fano dove erano arrivati gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 in poco tempo è diventata un caso nazionale con la mobilitazione di cittadini, parlamentari e associazioni che hanno chiesto di liberare il ragazzo perché secondo loro sottoposto ingiustamente ad un trattamento sanitario obbligatorio. Inoltre le dimissioni disposte dai medici due giorni prima rispetto ai sette totali previsti in questi casi confermerebbe l'infondatezza del TSO. La misura poi è ritenuta da molte persone illegittima ed esagerata autorizzata dal sindaco di Fano Massimo Seri. A quanto pare infatti il ragazzo si sarebbe arrabbiato non a scuola ma una volta arrivato al Santa Croce dopo aver appreso la notizia dell'ordinanza firmata dal primo cittadino e questa mattina a parlare è stato proprio lui il protagonista dell'episodio che si è presentato per primo alle ore 10 di fronte alla sua scuola qui dove oggi studenti, genitori e insegnanti provenienti da tutte le marche si sono incontrati per protestare contro il trattamento riservato al giovane. Io sto bene e secondo me all'ospedale di Fano mi hanno rinchiuso per una questione politica non sanitaria, cioè io non sono pazzo e mi hanno iniettato questi due calmanti che mi hanno rintantito la testa per un giorno e poi li ho rifiutati tutti ma ci sono altri ricoverati che li prendono una volta al giorno e non riescono nemmeno a fissare un libro. Ti avevano ritirato il cellulare e poi restituito? No, non me lo avevano restituito l'ho preso per darlo ai miei genitori per evitare che cancellassero le registrazioni e sì mi hanno ritirato il cellulare perché mi hanno isolato diciamo le persone e non possono avere più contatti con gli amici ma la regola dice solo con i parenti una volta sono arrivati i miei parenti e mi ci hanno fatto parlare solo un minuto poi hanno chiuso la porta. Il 18 anni ha raccontato di aver ricevuto due calmanti e di essere stato sottoposto a un tampone tutto contro la sua volontà e all'insaputa dei genitori poi il giovane ha ripercorso quanto accaduto a scuola le forze dell'ordine erano già state chiamate più volte a causa del suo rifiuto di indossare la mascherina. Una volta hanno spostato i miei compagni in un'altra aula in modo che io dovessi spostarmi per seguire la lezione quindi mi hanno impedito di studiare un'altra volta in un laboratorio di informatica in cui non c'erano dei posti in cui potessi fissare il lucchietto e le forze dell'ordine hanno sollevato un banco per togliere l'aggancio che avevo fatto e io mi ero andato a documentare con le leggi così le avevo provato a portarle avevo anche fatto dei fogli scritti ma non mi hanno ascoltato e così ho continuato più volte quando più avanti ho conosciuto il costituzionalista cioè era già partita io mi ero già informato sulle mascherine non è tutto dovuto a lui e mi ha detto che io sarei potuto entrare in classe e se le forze dell'ordine mi portano fuori ho ragione io però devo stare fermo e non posso neanche spostare le mani con cui mi prendono Ma come credi si evolverà questa vicenda? Ti aspettavi tutti questi attestati di vicinanza e questa risonanza mediatica? Sì, allora diciamo che in un primo momento quando ero all'ospedale mi sono un po' spaventato però effettivamente non c'era questa minaccia perché sono venute tante persone ad aiutarmi con cui ero in contatto tramite la rete mi hanno iscritto in tantissimi chiedendomi come sto, le mie condizioni Continuerai questa battaglia o terminerà qua? No, non è che smetto perché me lo impongono con la forza di smettere non ha senso Sì, continuerò in qualche modo adesso devo vedere quando rientrare proprio fisicamente a scuola e poi quest'estate troverò lavoro quindi non è detto che ritornerò a scuola l'anno prossimo però qualora ci dovesse essere bisogno delle mie competenze prenderei il diploma e mi metterei anche a laurearmi Il sit-in di protesta è andato avanti per tutto il giorno all'appuntamento erano presenti persone provenienti da tutta la regione Anche lei ha partecipato per sostenere il ragazzo? Sì, sì, per fare di solidarietà perché io la penso come lui Musica, striscioni e tanta solidarietà sono arrivati da tutte le marche giovani, insegnanti e rappresentanti di associazioni che hanno voluto partecipare al sit-in organizzato nei giardini Leopardi di fronte all'istituto Livetti Afano tutti contrari al trattamento riservato allo studente del Battisti che si è rifiutato di indossare la mascherina in classe Lui ha espresso un legittimo diritto e ha avuto delle conseguenze disumane perché passare quattro giorni interi all'interno di un reparto di malattie mentali all'interno di una psichiatria per un ragazzo di appena 18 anni è un'esperienza che lo segnerà per sempre Io sono molto addolorata che questo sia successo a questo ragazzo che ho conosciuto venerdì quindi non lo conoscevo da prima e mi è sembrato subito un ragazzo per bene con le idee chiare, con un carattere forte sicuramente anticonformista ma un ragazzo per bene e pulito mi dispiace che questo sia successo nelle Marche che sono la nostra terra una terra che ha dato i Natali a tanti combattenti per la libertà e per la democrazia mi auguro che non accada più perché non può essere la soluzione la coercizione la limitazione della libertà la responsabilità qui è condivisa è condivisa perché noi in 14 mesi abbiamo tollerato fin troppo era evidente, era ineluttabile che prima o poi qualcuno avrebbe pagato le conseguenze è arrivato Fano da Fossombrone per partecipare a questa manifestazione di protesta per quale motivo? sono un ex insegnante ho insegnato per più di 40 anni e ritengo che questo fatto dimostri la decadenza della scuola attuale che con la scusa di questa pandemia non si è più in grado di far maturare i ragazzi ma li si tratta come se fossero dei pecoroni se il ragazzo ha fatto qualcosa che non era giusto che facesse deve essere punito come la scuola ha tanti strumenti come ho sempre fatto io nei miei 40 anni di lavoro non c'è bisogno di chiamare le forze di polizia chiamare le forze di polizia indicano la sconfitta della scuola io posso mettere una mascherina perché sono un tifoso del Bologna con i colori del Bologna che non ha nessun valore dal punto di vista medico e nessuno mi dice niente non la metto mi fanno 400 euro di multa questo è assurdo perché o la mascherina ha un valore medico che voi me lo dimostrate quindi lo devo portare e deve essere una mascherina ad hoc o altrimenti non ha senso questa è un'operazione che ha un forte significato, una forte valenza simbolica anche dal punto di vista politico secondo me questa cosa come dicevo prima è ancora più grave perché è fatta nella scuola come dicevo la scuola è il luogo deputato allo sviluppo del centro critico e secondo me a scuola io sono un insegnante di liceo si predica bene e si razzola la mano nel senso che sono gli stessi insegnanti che fanno l'elogio di Giordano Bruno fanno l'elogio di Galileo spiegano il processo a Galileo che ricordiamoci quando lui parlava in quel momento era una minoranza era un eretico spiegano come la verità sia tutta da scoprire non sia un adeguamento a quello che già si sa poi invece quando si trovano di fronte a quelle situazioni si oppongono in tutte le maniere Anche due mamme presenti a questa manifestazione per quale motivo? Abbiamo trovato eccessiva questa misura presa verso questo ragazzo soprattutto da parte della scuola visto che sono anche una docente precaria però sono docente comunque penso che il corpo docente poteva intervenire in un'altra maniera una protesta, un dissenso va bene ma chiamare le forze dell'ordine 118 mi è sembrata una cosa non lo so fuori da un paese democratico ma poi in un contesto scuola a 18 anni ben venga il dissenso cioè siamo stati ragazzi tutti si facevano gli scioperi si stava fuori da scuola si facevano i picchetti adesso non fanno più niente i ragazzi l'unico che si è permesso di dissentire dal pensiero comune ha ricevuto un trattamento del genere mi sembra una cosa proprio fuori da ogni logica fino a poco tempo fa la mascherina in classe non si portava seduti al banco quindi questa è una cosa che la dice lunga adesso la devono tenere sempre 6-7 ore al giorno io sono d'accordo con il ragazzo sinceramente ed è diventato un caso nazionale anche la storia di quell'infermiere di Ancona che ha rifiutato di fare il vaccino anti-covid non ho paura di essere licenziato ha detto l'uomo perché la mia libertà non vale lo stipendio che prendo ovvero 1.500 euro credo che in un paese libero in un paese democratico ognuno del suo corpo possa farne quello che vuole la mia libertà e la mia dignità valgono più di una sperimentazione ha rifiutato di vaccinarsi Enzo Palladino 52 anni infermiere del reparto di endoscopia digestiva all'ospedale di Torrette di Ancona la legge infatti non prevede un obbligo per gli operatori sanitari che però in questo caso possono essere demansionati con una ricaduta sullo stipendio questo fatto per me che io mi sono sentito anche Ro e Angelo qualche mese fa adesso mi sembra un vero e proprio ricatto quindi il problema non si basa neanche sulla scientificità vaccino sì, vaccino no ma sul fatto di vedermi violato forse è un diritto alla persona non sono un no-vax ci tiene a precisare ho fatto tre vaccini anti-influenzali ma questo per come è stato imposto l'ho rifiutato innanzitutto spiega Palladino perché chi lo somministra è esonerato dai reati di omicidio colposo e lesione colposa il cosiddetto scudo penale l'infermiere così ha deciso di scrivere una lettera non solo alla sua azienda ma anche al Presidente della Repubblica e al Ministro della Salute ma ancora nessuna risposta ho scritto come un cittadino libero una persona che ci tiene alla sua libertà ci tiene alla sua dignità e purtroppo i tempi sono molto veloci si corre nel far tutto e forse il legislatore ha dimenticato che prima di mettere le mani su una persona ne dovrebbe chiedere il consenso Enzo che è seguito da tre legali è anche Presidente nazionale e regionale dell'Associazione L'AISA lavoratori indipendenti della salute il sindacato, ci racconta l'infermiere ha sposato appieno questa battaglia nonostante che all'interno del direttivo ci siano persone vaccinate combattiamo tutti ha detto per un diritto personale violato a sostenerlo anche tanti colleghi e cittadini di tutta Italia centinaia infatti le attestazioni di vicinanza io non ho fatto nulla di eclatante ho avuto paura di questo tipo di vaccino dove ricordiamolo è comunque un qualcosa di sperimentale e poi certo qualcuno lavora per mettere alcuni cittadini contro gli altri in modo particolare gli operatori sanitari che non intendono vaccinarsi viene messo in contrapposizione un diritto di un operatore con il diritto di un paziente senza sapere che entrambi sono delle persone quindi l'operatore in questo frangente viene visto come un untore come una macchinetta e quindi deve sottostare ad alcune regole ad alcune imposizioni per non contagiare qualcun altro che è un utente fragile una persona fragile la fragilità può stare pure dall'altra parte Enzo non è preoccupato per un eventuale licenziamento? non mi spaventa cioè se pensiamo che i nostri nonni i nostri bisnonni per la libertà hanno dato la vita io potrei tranquillamente per onorare il loro operato dare sicuramente il posto di lavoro che io ho vinto con concorso quindi non l'ho comprato non ho sottratto nulla a nessuno la mia libertà non vale 1500 euro al mese il mio corpo non vale 1500 euro al mese quindi tranquillamente potrei essere licenziato ma potrò fare un altro lavoro non ho di questi problemi non sono mai uscito fuori dall'Italia in 52 anni se sono questi canoni della democrazia italiana posso valutare pure questa situazione Paura questa mattina lungo l'A14 per un incidente che si è verificato intorno alle 7.30 tra Fano e Pesero in direzione nord per causa ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale un'auto in furgoncino Citroen Berlingo si sono scontrati all'altezza di Fenile a seguito dell'urto una macchina un Audi A3 si è capovolta per fortuna nessuno dei conducenti ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari sul posto oltre le forze dell'ordine nel 118 e due mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Fano che hanno messo in sicurezza le vetture il traffico ha subito rallentamenti con 4 km di coda e la circolazione è stata ridotta per circa un'ora ad una sola corsia per permettere le operazioni di soccorso i carabinieri sono già sulle tracce della banda di stranieri che sabato pomeriggio ha aggredito a Fano a calci e pugni due giovanissimi di Pesaro a scatenare la furia del branco lo smalto alle unghie di uno dei ragazzi doveva essere una normale serata tra amici quella di due giovanissimi pesaresi che hanno deciso di trascorrerla nei pressi della Rocca Malatestiana a Fano ma così non è stato protagonisti di questa brutta vicenda avvenuta sabato scorso un 17enne e un 18enne entrambi di Pesaro che appena arrivati ai giardini hanno dato subito all'occhio ad un branco di ragazzi circa della loro età e tutti stranieri l'elemento scatenante? lo smalto alle unghie del maggiorenne ad un certo punto questo gruppo formato da una ventina di giovani si sono rivolti prima a parole contro i due poi avvicinandosi e vedendo lo smalto alle unghie di questo ragazzo lo hanno bloccato rubandogli prima le collane che aveva al collo e poi con un accendino hanno cercato di dargli fuoco alle dita così da poter togliere quello smalto di colore nero e proprio mentre la situazione degenerava l'amico 17enne ha cercato di fermare il branco ma avendola peggio perché si sono fiondati su di lui sferrandogli pugni in faccia calci e percosse su tutto il corpo una scena infernale che ha attirato l'attenzione di un ragazzo che ha prontamente chiamato le forze dell'ordine e il 118 all'arrivo del 112 e della polizia di Fano il gruppo si è dileguato rubando ai due giovani anche gli effetti personali come cellulari e chiavi di casa sul luogo dell'accaduto i sanitari hanno subito soccorso il 17enne ricoperto di sangue a causa di una frattura al naso trasportato all'ospedale gli hanno riscontrato fratture sul braccio e un dito rotto e altre lesioni i medici gli hanno dato 30 giorni di prognosi sull'accaduto ora sta indagando il commissariato di polizia di Fano è morto oggi ad Ascoli Piceno Don Angelo Ciancotti parroco della cattedrale di Sant'Emidio aveva 53 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia ho conosciuto un uomo e un sacerdote che ha affrontato con grande coraggio la sua malattia dichiarato all'ansia il vescovo Domenico Pompili senza mai distogliere il pensiero dalla sua amata cattedrale che anche a distanza per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute continuava a seguire con il suo intelletto d'amore con Don Angelo scompare un pastore energico e concreto ha concluso Monsignor Pompili fino alla fine ha conservato la fede e si è abbandonato fiducioso nelle mani di Dio a rafforzare il sistema di prevenzione di contrasto all'evasione questo è lo scopo del protocollo d'intesa firmato questa mattina dal Comune di Pesaro e dalla Guardia di Finanza grazie all'accordo che ha una durata di 36 mesi verranno aumentati i controlli che riguardano gli aiuti alle imprese l'erogazione di contributi come affitti rimborsi utenze contributi allo studio ma anche la concessione di alloggi pubblici e il contrasto all'abusivismo nel settore alberghiero la Regione Marche riprende il ciclo di incontri dal titolo Ascoltiamo il territorio che ha l'obiettivo di raccogliere le istanze degli operatori sull'agricoltura Riprende domani alle 18 al Lanciano Forum di Casserra e Mondo in provincia di Macerata il percorso di ascolto e di condivisione promosso dalla Regione Marche con coloro che operano ogni giorno nel sistema rurale marchigiano imprenditori agricoli rappresentanti delle associazioni mondo accademico istituzioni cittadini continua così l'impegno per dare voce ai territori ognuno con le sue specificità dopo le prime tappe di Iesi e Montegiorgio le restrizioni legate all'emergenza sanitaria avevano imposto un'interruzione ma oggi il PSR il programma di sviluppo rurale torna al centro del dibattito si proseguirà mercoledì 12 maggio alla Cantina Sociale Valdaso a Montalto delle Marche per concludere il ciclo di incontri giovedì 13 a Monbaroccio al convento del Beato Sante sempre con inizio alle ore 18 si parlerà del piano di sviluppo rurale di come collocare queste risorse straordinarie che sono arrivate per questi due anni che ammontano circa 200 milioni di euro che noi vorremmo utilizzare per rilanciare l'agricoltura per fare in modo che le imprese agricole ricominciano a investire e soprattutto con una modalità quella che ci è stata anche richiesta da parte di molti imprenditori agricoli di sburocratizzare quello che è il nostro obiettivo quello di rimettere al centro gli investimenti per l'agricoltura ma fare in modo anche che ci sia una crescita in filiera infatti abbiamo previsto per la prima volta un contributo per l'agroindustria gli appuntamenti si svolgeranno in presenza nel rispetto delle regole anti-covid ma potranno essere seguiti anche online infatti è prevista la diretta sui canali social del PSR Marche l'iniziativa più importante che verrà effettuata con questa quantità di soldi europei per lo sviluppo rurale sarà quello di riportare molti giovani investiti in agricoltura il ricambio generazionale è al centro delle nostre politiche agricole e collocheremo diverse decine di milioni di euro per tutti i giovani che vorranno aprire una nuova attività agricola le Marche si confermano una delle mete turistiche italiane più appetibili grazie alle 16 bandiere blu che le sono state assegnate per il 2021 una in più rispetto all'anno scorso la regione è quinta per vessilli nella classifica italiana dopo Liguria, Campania, Puglia e Toscana in provincia di Pesaro Urbino le bandiere blu sventoleranno a Gabicemare, Marotta di Mondolfo Fano nel tratto nord a Torrette e a Sassonia e a Pesaro nel tratto Sottomonte Ponente e Levante tra poco le previsioni del tempo poi una nuova puntata di Primo Cittadino l'ospite di questa sera sarà Gabriele Bonci sindaco di Fossombrone grazie per essere stati con noi l'appuntamento con l'informazione e per domani mattina alle 7 con Occhio ai giornali la rassegna stampa arrivederci grazie a tutti